Ciao Michele, allora la canzone che porti al festival di Sanremo si chiama L'inverno dei fiori, è una storia bellissima, è una storia che è molto emotiva, che non è mai triste, ci sono tante riflessioni nella tua canzone, c'è il sentimento, c'è la morte, ma soprattutto c'è la speranza e la voglia di ripartire. Tu peraltro non ti sei mai fermato, c'è anche la voglia di ripartire dal palco dell'Ariston, è la voglia di tutti quanti noi, quella di ritornare alla vita normale, tu peraltro hai anche fatto il tuo tour, quindi la prima domanda che ti chiedo è, la prima riflessione che faccio insieme a te è che c'è questa voglia di ripartire, tutto quello che tutti quanti noi stiamo cercando di fare. Ancora non c'è perché purtroppo l'imprevisto ci ha riportato praticamente al punto di partenza, no? Io guarda ho finito il tour giusto in tempo per la nuova ondata, bastava una settimana in più e non saremmo riusciti a concluderlo. Guarda, già anno scorso Sanremo lo è stato, io spero che quest'anno lo diventi anche in maniera più massiva, un piccolo grido d'aiuto per lo spettacolo perché al di là di tutto mi sembra evidente che siamo il settore forse tra i più colpiti, no? Dallo stress economico di tutta questa emergenza sanitaria e il fatto che ancora non si dia un segnale di ripartenza, poi per carità giustamente con le dovute attenzioni, con le dovute precauzioni, sicurezza per gli attristi, per il pubblico, per le maestranze, però insomma è importante che ci si riconosca la dignità di una professione. Questa cosa, guarda, io quest'anno ho fatto in un unico anno due tour perché per me essere, anche nel mio piccolo, una piccola occasione per una squadra di tornare al lavoro è essenziale e quindi adesso riportare la mia squadra sul palco più grande d'Italia che oltretutto in questo momento è tornato ad essere l'unico palco è tanto importante, quindi spero che veramente sia un primo capitolo per dare dignità a questo settore. La bellezza della tua canzone per quanto mi riguarda, avendo letto il testo, sta proprio nell'ultima strofa, la cito ma la sono dovuta scrivere perché ho faticato ad imparare la memoria, dice così, insegnami come si fa ad imparare la felicità per dimostrarti che se fossimo dei suoni sarebbero canzoni e se fossimo stagioni l'inverno dei fiori. Ecco, questa canzone è molto teatrale, molto bella, ti faccio tanti complimenti, io non ho ancora avuto modo di sentirla, però ti chiedo, ecco, è una canzone che ha bisogno di una interpretazione particolare? Beh, ma guarda, io l'elemento della teatralità è un elemento che tengo sempre molto forte in tutta la mia produzione, nel senso che, insomma, anche l'approccio proprio di arrangiamento quest'anno è estremamente più cinematico, estremamente più narrativo rispetto anche alla dimensione orchestrale, perché credo che ci sia tanto bisogno di fare narrativa, no? Quello che stiamo vivendo è un periodo estremamente complesso, no? E io non so se è un fatto generazionale, magari anche aggravato dalla situazione del Covid, è un fattore comune. Avere la capacità di intrecciarsi con le altre persone in questo momento è, per la mia generazione, ma credo per tante persone, complicatissimo. E' come se avessimo disimparato, nonostante l'interconnessione mediatica con cui viviamo, è difficilissimo capire come incastrare le radici l'una all'altra. E io per raccontare questa tensione di fragilità, no? Quasi di incapacità, perché siamo troppo coperti da mille sbavature dell'anima e sono quelle che ci bloccano a intrecciarsi, ho usato tante immagini, a me piace molto. Guarda, a me è capitato molte volte di sentire descritta il mio modo di scrivere come immaginifico. Cioè, uso tante immagini piccole per dire cose grandi. E per me raccontare che se fossimo dei suoni sarebbero canzoni è un modo per dire che la vera persona che ho davanti, io riesco a capirla quando voglia di scriverla in una canzone. Quando voglia che quella cosa illumini. E nel mio caso sono dei suoni. In un caso più ampio sono fiori invernali, no? Questi fiori che lottano contro la falsa credenza che i fiori possono fiorire soltanto col sole della primavera. Non è così. Esistono fiori che rompono la neve e tirano fuori i loro colori. E quello per me è una piccola immagine per raccontare, no? Per dire proprio il senso di protezione che in realtà tutti cerchiamo. Cioè, alla base di tutto c'è proprio un concetto estremamente semplice, estremamente fragile. Cioè, è proprio la voglia che qualcuno ti dica. Io vicino a te sono felice. La voglia di poterlo dire a qualcuno. Io vicino a te sono felice. Ed è proprio un desiderio intimo, semplicissimo, ma che credo che in qualche modo tutti condividiamo. Com'è stato il tuo approccio al pubblico? Con il ritorno al pubblico? Che ti sei ritrovato e che tu hai avuto la fortuna di rivedere un po' nel tuo tour. E poi siamo dovuti di nuovo ripartire da zero. Ecco, cosa hai provato? A me mancava proprio tanto potermi esibire, poter vedere gli occhi delle persone, poter per un secondo spegnere la testa ed entrare tutti quanti in una visione creativa, senza pensare che fuori stiamo vivendo quello che stiamo vivendo, senza annullarlo, per carità di Dio, perché poi non è nemmeno buttare la testa sotto la sabbia, però cercare di digerirlo in una maniera diversa, cercare di affrontarlo prendendolo in curva. E guarda, per me i concerti sono di fondamentale importanza, ma non tanto, guarda, anche al di là del me essere artista, proprio anche come spettatore, poter ritornare ad un concerto per me è stata un'emozione incredibile. Io quando per la prima volta sono tornato ad un concerto dopo due anni, mi sembrava proprio di viaggiare in un mondo, cioè di percepire quell'energia in una maniera diversa, perché era un'energia che davo per scontato, che pensavo potesse passare attraverso soltanto il fatto di comprare un biglietto, invece adesso non è nemmeno più così. È la speranza di poterci arrivare, accettare che quella cosa con l'imprevisto può sparire. E dopo due anni ritornare a vedere il proprio pubblico, sentire le canzoni, vivere di una vita loro, sentire quella connessione che avviene con la musica, è bellissimo. Poi guarda, sai cosa? Uno dei momenti più belli dell'anno scorso è stato il momento in cui io personalmente, e ci tenevo a farlo io personalmente, ho potuto richiamare tutti per dire ragazzi torniamo a lavorare, torniamo in tour. E ti assicuro che è stata un'emozione fortissima, perché io nel mio caso non lo facevo da due anni già, e quindi con la pandemia erano diventati tre. E poter ritornare al lavoro con un gruppo di persone, quel gusto del viaggio, della fretta, degli orari sballati, è proprio una dimensione professionale, umana, che mi mancava tanto. E ti dico, spero di ripeterla, cioè io già sto lavorando a organizzare cose nuove. Purtroppo ora come ora è tutto complesso, è tutto nella speranza. Però per me la scusa di fare un disco è sempre perché l'obiettivo è tornare dal vivo. Mi piace tantissimo la dimensione del teatro, mi piace poter esibirmi tante sere con lo stesso spettacolo, con persone diverse. Quindi spero veramente di poterci riuscire. Il teatro dell'Ariston non è la prima volta che viene calcato da te. Lo avevi già fatto con una bellissima canzone, Il Diario degli Errori, scritta peraltro da un palermitano, che è Francesco Nastasi che salutiamo. Come ti stai preparando? Che emozioni? Come ti senti a tornare sul palco dell'Ariston? Guarda, mi riservo di rimangiarmi tutto cinque minuti prima di salire, ma io quest'anno me la sto vivendo con grande tranquillità. Intanto perché dentro di me sto dicendo, una volta l'Ariston era un'occasione professionale. In questo momento è diventato ancora di più, è un'occasione per cantare. E quindi me la sto proprio godendo con tanta presenza. Cioè io quando ho fatto Il Diario degli Errori, quando ero in gara col Diario degli Errori, poi vabbè, tutte le volte che sono stato ospite è diverso perché chiaramente non hai la pressione di presentare un tuo inedito e mille altre cose. Però insomma, quando ho fatto Col Diario degli Errori, il mio rimpianto è che nonostante fosse stato un Sanremo, è andato benissimo. Io grazie a quel Sanremo faccio il lavoro che faccio ora. Mi ricordo più l'elemento tensivo, ansioso, piuttosto che il momento in cui ho detto cavolo, sto cantando una mia canzone, sono un emergente, sono sul palco più grande d'Italia. Ecco, quest'anno mi sono ripromesso che quella cosa non doveva succedere. E quindi ogni prova anche che sto facendo con l'orchestra, cioè proprio mi concentro sul fatto che sono lì in quel momento, su quel palco, mi concentro proprio sulla presenza del corpo là sopra. E quindi me la sto respirando completamente. Poi chiaramente salirà l'emozione e tutto quanto, però spero, e questo è un augurio che faccio a me stesso, proprio di esserci lì in quel momento, di non lasciare spazio a sentimenti invadenti che coprano l'esibizione. Spero di poterla cantare direttamente io e non la mia paura. Nella serata delle cover porti Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Sei pronto a fare questa cover di Lucio Battisti, che appunto è la canzone che porterai, come dicevo prima, nella serata delle cover. Perché hai scelto questa canzone? Quanto è importante per te, Michele? Guarda, Battisti per me è uno dei... Beh, in realtà Battisti-Mogol, cioè proprio la coppia artistica, è proprio un'ispirazione tra le più grandi. Guarda, non a caso in qualche modo attingo comunque anche come squadra di scrittura alla famiglia, nel senso che poi io tutto quello che faccio lo scrivo insieme al figlio di Mogol, che è Keop, che ha ereditato completamente il talento del padre, reinterpretandolo poi a suo modo. Io ti dico, guarda, quando si tratta di scegliere delle cover, tu devi riuscire a trovare un giusto equilibrio fra quello che puoi aggiungere di te, del tuo racconto, e il momento celebrativo. Quest'anno, tra l'altro, c'era anche la possibilità di cantare dei pezzi che fossero anche non in italiano. Io, guarda, mi capita, quando sono nella scrittura dell'italiano, mi capita di respirare veramente l'importanza della nostra lingua. E quindi intanto ci tenevo che ci fosse una cosa in italiano perché noi ci dimentichiamo del tesoro che abbiamo proprio nel nostro repertorio musicale. E Battisti e Mogol è uno di questi tesori. E quando, sai, io vorrei, non vorrei mai se vuoi, in qualche modo racconta le stesse cose che io ho provato a raccontare con L'inverno dei fiori. Questa paura totale che ti fa credere di aver disimparato l'amore perché tutto quello che hai vissuto prima ti sembrava amore, ma non era così. E quindi nel momento in cui tu l'amore lo guardi negli occhi non sai come ti devi comportare, non sei più abituato. È una regola nuova che devi imparare. Però quella frase lì che poi ha fatto la storia della musica, come può uno scoglio arginare il mare, di una semplicità disarmante ma spiazzante allo stesso tempo, cioè come può una cosa rocciosa, una storia passata, contenere un sentimento che in realtà poi è naturale, e lo respiri come se fosse ossigeno. Io ci tenevo in qualche modo poi a poterla omaggiare anche con una rivisitazione, no? D'arrangiamento e quant'altro con la mia voce. Spero di riuscirlo a fare nella maniera migliore. Però sono molto contento, insomma, di essere accompagnato in qualche modo da quella scrittura su quel palco. Bene, non ti rubo più tempo. In bocca al lupo, per me va bene così. In bocca al lupo, Michele. Buon festival di Sanremo, buona serata. Serve una bellissima canzone come la tua e ti ringrazio per averla portata al festival. Speriamo, speriamo, ma tu sei a Sanremo anche per preservare in qualche maniera tutto il tuo lavoro, ma anche quello nostro. E quindi speriamo di ripartire, di ritornare presto alle vita di tutti i giorni. Ma tu ci sei a Sanremo? No, Michele, noi quest'anno seguiremo il festival di Sanremo dai nostri studi palermitani, ma non vediamo l'ora di abbracciarci presto. Speriamo.